Eccoci ragazzi, eccoci, c'è, il cartello c'è, si legge nitidamente Carbonolo, anche se c'è qualche foglia vicino alla PdSup. Prima di Sassuolo Milan non abbiamo fatto niente da qui, caro Carbo, e l'abbiamo visto, perché il lunedì prima della partita Mr. Pioli non ha fatto la conferenza stampa, oggi invece come sempre l'ha fatta, siamo qui, omaggi, cari saluti, abbracci e tutto quello che vuoi. Adesso ci spostiamo, andiamo nella nostra postazione pre-partita, la consueta, la solita, andiamo a raggiungere il nostro cartello di località di Milane. Allora, la freccia direzionale verso il centro sportivo Rosso Nero. Io credo che ci siano stati tre momenti importanti della conferenza stampa del nostro allenatore, intanto quando ha risposto alla domanda sugli ultimi quattro derby in cui si è segnato, perché negli ultimi quattro derby, a voler guardar bene, c'è anche il derby d'andata di Coppa Italia della scorsa stagione, finito 0-0 con il Milan che è stata l'unica delle due squadre a tirare in porta, che avrebbe meritato la vittoria, ma non abbiamo segnato. Però il nostro allenatore non si trincera dietro l'alibi statistico e dice E' vero, c'è stato nel febbraio 2021 il gol all'inizio di Lautaro Martinez, c'è stato nel derby d'andata dell'anno scorso il gol su rigore di Ciaranoglu, c'è stato poi nel derby di ritorno il gol di Perisi, c'è stato nel derby di Coppa Italia e il gol all'inizio di Lautaro Martinez. Ecco, quindi perché l'Inter va sempre in vantaggio? Il mister non dribbla, il mister dice è un'abilità, se il derby deve ancora assestarsi e loro già trovano la pericolosità e l'abilità di segnare subito, è un'abilità che hanno e che noi dobbiamo fronteggiare. Oserei dire, provare anche a rubare l'idea, però non è quello che ha detto il mister, è quello che si potrebbe facilmente aggiungere al bar davanti a un caffè. E quindi, insomma, devo dire che questo particolare, questo aspetto, questa considerazione da parte del nostro allenatore ci fa capire ulteriormente che Stefano Pioli non sottovaluta nulla e non ha dimenticato di preparare nulla della partita di domani che, come sappiamo tutti, è molto importante. Un altro aspetto significativo della conferenza stampa di oggi ha riguardato invece l'assetto tattico della squadra, dal sistema di gioco, dal momento che è stato fatto un certo tipo di mercato, è stato chiesto al mister se può nascere qualche nuova idea sul sistema di gioco. Il mister si è dimostrato anche qui aperto, per nulla con le gambe ferme sotto il tavolo dedito solo all'ordinaria amministrazione, dice a qualcosa di qui in avanti potrei pensare. Chiaro, non domani mattina, non domani sera, però, almeno aggiungo io da quanto ho capito, però la conferma è che l'allenatore e il nostro staff pensano sempre alla squadra, anche alle sue possibili evoluzioni, anche alle sue possibili modificazioni. E quindi questo è un aspetto importante da tenere presente. In ogni caso, quando il mister parla di essere lunghi, un po' lunghi in alcuni reparti, parla sicuramente dei difensori centrali dove siamo in cinque, dove volevamo essere in cinque, ce lo siamo detti anche molte volte nel corso dell'estate, con Tomori, con Kalulu, con Chiar, con Gabbia e con Tio, siamo in cinque. Siamo tanti anche fra i centrocampisti, perché ci sono Benna Sere e Tonalli, perché ci sono Crunice e Pobega, perché ci sono Bakayoko e Ranks, o Franks come si pronuncia in fiammingo. E poi siamo lunghi fra trequartisti, abbiamo Brian Diaz, abbiamo Adli e abbiamo De Ketlaer. Quindi, avere tanta disponibilità in questi reparti, in che cosa possa tradursi a livello di sistema di gioco, è libera interpretazione, libera opinione. Naturalmente sappiamo di avere tanti giocatori in quei reparti e poi naturalmente toccherà eventualmente al mister studiare soluzioni per sfruttare al meglio tutto questo. che c'è e finché è a disposizione naturalmente c'è la possibilità di pensare in generale. La squadra è serena, la squadra, i muri di Milanello mi dicono che ha preparato adeguatamente il derby, i nuovi soprattutto, Franks ne ha parlato Pioli, Tio ne ha parlato l'ambiente, piacciono, naturalmente deve ancora arrivare la primissima presa di contatto un po' più specifica con Serginio d'Este e vedremo naturalmente poi quali saranno le sensazioni, quali saranno i primi approcci, quali saranno i primi punti di vista al riguardo. Detto questo, la partita, la partita che naturalmente propone tanti aspetti, tanti insidi, ho visto anche da parte loro qualche ballottaggio, bastoni con qualche linea di febbre o Correa o Gecko in attacco, vedremo, insomma sarà una partita molto dura contro un avversario molto forte. Io questa mattina ho parlato del mercato, naturalmente pioggia di critiche, conservo la mia idea, tranquilli, conservo la mia idea, ciascuno è giusto che conservi la sua, che a volte vedo che vivete con violenza le cose che dico, io dico delle cose che penso, le metto in discussione, non è che le cose che dico io fanno girare il mondo ragazzi, in molti mi hanno scritto, ah ma dipende dal campo, beh certo, è la cosa che ho detto esattamente stamattina, io ho detto, per quanto riguarda il mercato, è stato un grande mercato, avevo sempre detto che avremmo investito più o meno i soldi della scorsa stagione, i ricavi della qualificazione Champions, del piazzamento in campionato e così è stato, perché leggevo sui siti specializzati che anche ci sono sempre delle spese, quando arriva un giocatore ad esempio le ultime spese collegate a Franks e a Serchini o Destre sono di circa 8 milioni e virgola, quindi ci sono sempre delle spese. Ho detto stamattina, poi il mercato è il mercato, non è che il mercato ti dà delle garanzie sul campo, è chiaro, lo dico sempre, lo dico sempre che poi il mercato va visto e rivisto alla prova, ma non soltanto della prima stagione dopo il mercato che hai fatto, ma anche delle successive, quindi l'ho specificato stamattina che non ci sono garanzie del mercato, ad esempio per quanto riguarda il Monza, il Monza ha fatto un grande mercato, poi sul campo ci sono delle difficoltà, perché tra mercato e campo c'è sempre uno scarto, quello io lo do per scontato, molti l'hanno usato come critica, ma io lo do per scontato. Poi ho passato la giornata a discutere di questa cosa dei millennials o degli zoomers, perdonatemi, io ho sempre visto e letto titoli di tutti i siti e di tutti i giornali, Donnarum, Ken, il duello dei millennials, ci sono classifiche di rendimento, basta cercare su Google, giocatori millennials, ci sono le classifiche di rendimento dei giocatori nati dopo l'anno 2000, quindi io se permettete continuo a chiamarli millennials, poi che si chiamino generazione Z, che si chiamano zoomers, fate voi ragazzi, io non, ripeto, c'è questa tendenza, appena si può dirmi qualcosa, forse sono io che la genero, forse è la competitività, non lo so, appena io dico qualcosa si scatena il finimondo ragazzi. Prendo atto, ma io continuerò a chiamarli millennials, in atti dal 2000 in poi, come leggo e come prendo atto da molte classifiche di rendimento, da molte definizioni che vengono date dai giocatori, continuerò a chiamarli millennials, ciascuno di voi è libero di chiamarli come vuole, ripeto, senza organizzarsi in gruppi per venirmi addosso su un tema che per me resta tale e quale. Adesso credo che il tempo delle discussioni stucchevoli sia anche abbastanza finito, anche e soprattutto da parte mia, soprattutto, e quindi non resta che concentrarsi. Ci vediamo domani mattina per le ultime sensazioni prima della partita e poi naturalmente domani sera da San Siro al termine della gara. Ciao a tutti, a domani.